Magari adatta a noi, proveremo ad attaccare, metterci in mostra per questi grandi corridori che ci sono qua. Questo ovviamente, assieme alla squadra, è il primo anno come Continental. Che bilancio puoi fare sia di te che anche a livello di squadra finora? Siamo cresciuti molto a confrontarci con professionisti di alto livello e penso che siamo cresciuti bene e siamo felici di fare altre corse ad alto livello. Dopo il CB Tour, quale cosa ti aspetta? Non so di ancora bene il calendario, ma abbiamo l'Adriatica Ionica, che è una corsa molto dura, molto difficile. Poi, a finali di stagione, abbiamo ancora il Giro dei Friuli, un altro Giro Romania e poi le classiche che sono Poggiana e tutte quelle belle corse internazionali italiane. Sempre all'attacco, no? Sì, dai, proviamo a metterci in mostra.